Se vi trovate a Roma non potete non venire in questo posto favoloso, si chiama Rosa, anche in latino Rose, la titolare è qua a fianco a me, saluta e invito tutti gli amici della Titania, il posto è veramente carino, si trova in via Ostiense al numero 158, che pubblicità è giochi di vini, via, si entra, si entra, faccio strada, ecco, cosa ci fai assaggiare? Un progetto, il murgo e la caponata siciliana, naturalmente, da buona siciliana, naturalmente cui ci hai visitato la Nazca? Grazie. Grazie. Grazie, grazie. Grazie. Grazie.